Il mio figlio è la gioia negli occhi, ho scelto per lui, i miei gioia sono più preziosi, e le vestite di lui. Il mio figlio è il tuo matvento. Irene, ti ho fatto a succare io. Guarda, non ce ne voglio più, ma le mie pericette nero. Tu guarda. Abdull stava protestando con una vecchia. Senti, questa non è la strada di casa. Caro Abdull, presto giungeremo da un pasticcere, quali dolci preferisci? L'ocuma all'arancio, croccante di mandorla, biscotti al pistacchio, eccetera candido. Tu sei un buon costaio. Benvenuti. Pasticcere, dammi cinque di rama di croccante per questo giovinetto. Ecco qua, che la giornata mi sorride. Appi lunga vita. Ma che frutto tutto. Buon attimo, nonna. Dov'è, nonna? Nonna? Dov'è la nonna? E ti faccio vedere io, dov'è? Non aspetta, io ti accompagno.